E' morta probabilmente sul colpo dopo essere stata investita da un pullman che stava andando in retromarcia. E' accaduto questa mattina ad Atri in via Colle Maralto, vicino il cimitero ed in corrispondenza della rimessa dei pullman dell'ARPA. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, una donna di 79 anni, Pasqualina Centorama, è stata investita mentre stava camminando lungo la strada. Il conducente dell'autobus non si sarebbe accorto della presenza della donna. Da lì il tragico incidente. Sulle posto si sono subito portati sanitari del 118, ma per la poveretta non c'è stato purtroppo nulla da fare. Al vaglio la posizione del conducente, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro. L'autista del pullman ha poi accusato un malore ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Giulianova.